Ecco il miglior quintetto delle finali nazionali under 19 maschile. Octavio Maretto della Carpegna Prosciutto Pesaro ha condotto l'attacco della sua squadra con 18.3 punti di media mantenendo un'incredibile costanza al tiro con il 59,1% dal campo. Emanuele Innocenti della Stella Azzurra ha trascinato la sua squadra sia in attacco che in difesa, per lui 16,5 punti e 6,5 rimbalzi di media. Francesco Ferrari di College Borgomanero è lui il condottiero del quarto di finale con una prestazione mostruosa nel quarto quarto contro Bergamo 14,3 punti di media alla fine con anche 8,5 rimbalzi. Mauro Zacchigna conquista con la sua Vanoli Cremona la medaglia di bronzo, per lui 17,3 punti e 8 rimbalzi nella competizione. Umberto Stazonelli, l'MVP della Next Gen, conclude le finali nazionali con 15 punti, 7,3 rimbalzi e 3,7 assist di media. Un po' di stanchezza a fine percorso ma si riconferma uno dei migliori prospetti d'Italia con la sua Carpegna Prosciutto Pesaro.